Un altro grande ospite all'auditorio Mattilio Monti della Nazione nell'ambito degli incontri con i grandi della cultura e del teatro per festeggiare i 150 anni più uno del nostro giornale. Si tratta di Vincenzo Cerami, uno dei più importanti scrittori e sceneggiatori italiani. Cerami ha scritto sceneggiature per maestri come Bertolucci, Benigni, Monicelli e Scola. Il direttore della Nazione Giuseppe Mascambruno ha offerto al maestro la targa ricordo del nostro giornale, tra il pubblico, ad applaudire Cerami, musicisti e artisti tra cui Bustrick, coprotagonista della Vita è bella.